Oggi abbiamo da applicare rapidamente e di corsa tutte queste misure che in parte sono già qui, in parte dobbiamo mettere in campo. Per quanto mi riguarda sappiate che tutto farò tranne che arrendermi alle tentazioni di chi dice il caos è troppo, non ce la faremo. Io sono convinto che ce la faremo e per quanto mi riguarda combatterò come un leone. Grazie. Bene, grazie Presidente Letta. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto. Decorrono da questo momento i termini di preavviso previsti dall'articolo 49,5 del regolamento.